Si lavorava in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza precarie, in questo capannone fatiscente e zeppo di macchine da cucire e tessuti da lavorare scovato dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera nel comune di Corropoli. I militari della tenenza di Nereto e della Guardia Costiera di Giulianova hanno sequestrato il capannone industriale che era gestito da un cittadino cinese in cui 13 persone, 4 delle quali in nero, fabbricavano mascherine anti-covid e dispositivi di protezione individuale. Le forze dell'ordine, assieme al personale dell'ASL di Teramo e ai tecnici delle comune di Corropoli, hanno accertato svariate violazioni nel corso dell'ispezione all'interno dell'opificio, in cui venivano disattese tutte le misure di prevenzione anti-covid, dove mancava la certificazione antincendio e anche l'acqua potabile, che era prelevata da un pozzo privo anch'esso di autorizzazione, dal quale veniva captata l'acqua che serviva sia per la produzione industriale che per una cucina limitrofa allo stabilimento. In più, i reflui dell'opificio confluivano senza autorizzazione negli scarichi d'acqua bianca. Il laboratorio fungeva anche da dormitorio perché al suo interno erano stati ricavati abusivamente numerosi stanzini per gli operai, con impianti elettrici non a norma e con gravi criticità dal punto di vista dell'agibilità e dell'igiene. Il titolare dell'attività manifatturiera è stato denunciato per violazioni in materia urbanistica di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, di gestione dei rifiuti liquidi prodotti e per aver impiegato mano d'opera irregolare.